Tra le poesie di Alfonso che hai interpretato, in quale ti sei sentito più a tuo agio e cosa ti ha dato questa avventura? La poesia che mi è piaciuta di più di quelle che ho interpretato di Alfonso è Grand Canyon, una poesia molto ariosa che mi ha dato la possibilità di riconoscermi all'interno di questa poesia, dove ci sono questi grandi spazi sconfinati nei quali ci si riconosce, nei quali ci si tuffa e ci si perde, proprio perché ti portano a riflettere, a pensare a te stesso. Un'esperienza sicuramente importante, soprattutto la seconda, quella che abbiamo vissuto nel teatro di Ostiano, che ha dato la possibilità non solo di interpretare delle poesie, ma di conoscere delle persone, di affiatarsi, di stare insieme e di passare un pomeriggio davvero piacevole, dove abbiamo potuto interpretare le poesie, ma anche parlare di noi e parlare con Alfonso del suo lavoro. Con Alfonso ho tra la recitazione e condiviso anche un'esperienza scolastica, ce ne parli? Alfonso quest'anno è venuto nella nostra scuola di Pescarolo per proporci un progetto che noi abbiamo intitolato A scuola d'artista, un progetto che ha coinvolto le classi quarta e quinta e che ha coinvolto davvero questi bambini che hanno accettato con entusiasmo l'intervento di Alfonso. Sono partiti dalla costruzione di immagini, nella costruzione di semplicissime immagini e sono arrivate all'interpretazione dei quadri di Alfonso, seguendo lo stile di alcuni grandi pittori. Quello che mi ha fatto veramente piacere è vedere dei bambini entusiasti, dal primo giorno fino all'ultimo, di lavorare con i colori e soprattutto di lavorare con Alfonso. Bambini che aspettavano il venerdì pomeriggio o il sabato mattina per poter parlare con Alfonso e per poter farsi consigliare nel lavoro scolastico, nella costruzione di queste tele meravigliose. Un grazie che va davvero ad Alfonso per quello che ha fatto e per il lavoro che ci ha proposto. Alfonso che è entrato con estrema umiltà nel nostro lavoro didattico e che ha aperto uno spiraglio grandissimo in cui tutti questi bambini hanno saputo riconoscersi e soprattutto ciascuno di loro ha potuto essere un artista. Per questi due mesi ciascuno di loro si è sentito sicuramente un artista. Nessuno è stato tarpato, anzi tutti sono stati fortemente motivati a produrre e a fare dei lavori.